Siamo nel villaggio del country, alle porte di Asti, un contesto residenziale e nello stesso tempo agreste, guardate che vista, di case tutte l'una vicino all'altra ma ognuno con il suo polmone verde, orto, giardino, spazio per una piscina per bambini e anche per adulti, per bacco. Un piccolo paradiso a cinque minuti dal casello dell'autostrada e a tutti i servizi.